Ma guardi, il governo ha fatto le sue valutazioni e ha assunto una decisione. Bari fa parte dell'Italia tanto quanto Caserta. È chiaro che io vedevo nell'opportunità del G7 a Caserta un'occasione d'oro per consolidare il nuovo corso e i successi che stiamo avendo, per avere anche un piccolo aiuto per sistemare meglio la regia che ha tanto bisogno di manutenzione. Sarebbe stato uno spot pubblicitario mondiale per la regia. È chiaro che non sono contento di questa decisione, ma la rispetto. Sono convinto che il Presidente del Consiglio manterrà la promessa di darci un appuntamento internazionale e poi la vita continua e noi la nostra battaglia la continuiamo a fare. Con il rispetto degli altri, naturalmente. La mia battaglia è per Caserta, ma ogni città fa la sua gara. Grazie.